Luca ha deciso di realizzare un sogno, un viaggio in Lapponia. Ha scelto di farlo con Montefettaro, sai perché? Luca non sapeva bene cosa significasse un viaggio in Lapponia e Montefettaro è riuscito a mostrarglielo ancora prima di viverlo. Luca voleva portare con sé il proprio fucile e Montefettaro ha pensato a tutte le pratiche burocratiche. Luca e i suoi fedeli ausiliari non sapevano bene come raggiungere Lapponia e Montefettaro gli ha fornito tutte le indicazioni. Luca non sapeva bene quali fossero le zone di caccia migliori e Montefettaro l'ha consigliato e accompagnato per tutto il periodo. bravo! Gli unici abitanti di questi incantati posti sono animali veri e autoctoni che rendono le tue giornate di caccia paganti come in nessun altro luogo della terra. La Lapponia è quanto di più si avvicini alla magia. Vieni in Lapponia, vieni con Montefettaro. la Lapponia, vieni con Montefettaro. Grazie a tutti. Grazie a tutti.